Amici dei fuoricampo, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento per parlare di Udinese. Qui è stato parlato come sempre il vostro Davide Marchiol per un appuntamento notturno, come solo le partite delle 20.45 ci sanno regalare, però purtroppo come sapete il mio lavoro tecnicamente sarebbe un altro, questo è un servizio in più e quindi definisce un po' sempre in coda alle cose da fare, però non ve lo faccio mai mancare, questo assolutamente no, perché ci siete in tanti che ci state accordando la vostra fiducia ed è giusto darvi i contenuti che insomma vi diamo sempre. Detto questo ovviamente mi raccomando continuate a supportarci come state facendo iscrivendovi al nostro canale e soprattutto se siete già iscritti mi raccomando ricordatevi il like e se volete essere sempre aggiornati sui nostri contenuti ricordatevi che esiste anche la campanella per le notifiche così sapete ogni volta quando vanno online i nostri video ci sono pochi passaggi, vi basta anche solo uno di questi tre e già ci date una mano importante perché sui social bastano anche i click e insomma i video girano di più, noi cresciamo di più e tutto un di più. Detto questo possiamo passare a parlare della partita che si è da poco conclusa, ovvero Juventus-Udinese, una gara ovviamente condizionata ancora dalle condizioni in cui versa la squadra friulana. Questo è inevitabile, c'era un po' poca fiducia sull'impatto che poteva avere la squadra in una gara come quella di stasera, al netto di una Juve devo dirlo che continua a lasciarmi abbastanza basito per la pochezza che riesce ad offrire nella ripresa addirittura d'Udinese che non si è quasi mai allenata, sembrava giocarsela alla pari con la Juve che insomma di problemi sì ne ha ma non così tanti ha un tasso tecnico sicuramente superiore ai bianconeri mafriulani. Quindi sulla Juve io sono abbastanza perplesso, francamente, anche nelle parole post partita di Allegri di Bala, ma non lo so, probabilmente il piazzamento Champions la vecchia signora riuscirà a prenderselo, però con che difficoltà ragazzi. Sicuramente in estate un po' di restyling, al di là dell'affaire di Bala, andrà fatto. Questo è il mio occhio da esterno, di persona che non segue 24 ore su 24 il mondo di Juve, ma insomma è una realtà che gioco forza, essendo una delle più importanti d'Italia, conosco un pochettino almeno, mi fa strano che si possa essere soddisfatti di questo, per quello che ha offerto la Juve nel tempo e nella sua storia. Vedremo. Io guardo ovviamente più a casa mia, tra virgolette, e l'Udinese insomma è scesa in campo, tra virgolette, come poteva, nel senso che non si sa se per Covid o per problemi fisici, non sono stati comunicati i nomi di coloro che sono ancora positivi, ma ti presenti comunque senza quattro di unici titolari, perché non c'era Becao, non c'era Molina, non c'era Pereira e non c'era Silvestri, non c'era Silvestri perché c'era ancora Padelli in porta. E già così diventa un po' complicata. Aggiungiamoci che Samir è andato via e i difensori che chiamate a rimpiazzare i partenti, ovvero De Maio e Samir, uno è Benkovic, l'altro pare sarà Pablo Marí, non sono ancora disponibili, il primo per questioni di transfer, arriverà anche a breve un video, una monografia su di lui sul canale, e Pablo Marí ancora deve firmare. Sembrava l'affare potesse avere la fumata bianca già venerdì, ma a quanto pare c'è ancora qualche difficoltà. Non so se è legata a questioni di semplice tempistica, o se magari Udinese sta insistendo un po' di più su Izzo, perché lo preferisce, non lo so francamente, perché Pablo Marí me lo davano abbastanza ormai vicino, cioè era questione solo di ore, vediamo, magari lo annunciano lunedì. Comunque dovrebbero essere Benkovic e Marí, i due nuovi innesti, che non c'erano però. E quindi al netto di tutto, insomma, ti sei trovato con uno Ziegler, difensore centrale, quello che può ricoprire, anche se con difficoltà abbastanza oggettive e palesi, e con diversi elementi molto, appunto, molto incognita, perché Mack'n'Goer Slam li hai appena recuperati, quindi avranno sì e no 3-4 allenamenti nelle gambe, in un periodo che comprende anche la sosta invernale, e soppi e udoginano pochi di più, Beto anche, sì, sono d'accordo con chi non è contento della sua prestazione, non ha giocato assolutamente bene, mi siamo ritrovati ad un altro Beto, però anche lì bisogna far capito in che condizioni si è ritrovato a giocare, si è negativizzato domenica scorsa, giochi 90 minuti pieni con l'Atalanta, il contracolpo, ragazzi, era inevitabile, quindi devo dire che sono rimasto comunque, ho guardato all'atteggiamento più che altro, sono rimasto comunque soddisfatto perché la sua la sia applicata, poi noi tutti vorremmo, visto il potenziale che questa rosa ha, vorremmo vedere un'Udinese più offensiva, più vuotata l'attacco, meno impaurita, è difficile però applicare un certo tipo di processo in gare, già sarebbe stato difficile con l'organico pieno contro l'Atalanta-Juve, in queste condizioni lo diventa ancora di più, perché per dirvi in panchina c'erano, sì, vabbè, vari success, Summers, tutti i ragazzi che avevano pochissimi minuti nelle gambe, intanto l'autofocus della mia fantastica cam continua a fare i miracoli, ecco qua, adesso dovrebbe aver smesso per questo video, dicevo, c'erano anche appunto poche alternative, Cioffi ha fatto un po' con quello che poteva, è un peccato più che altro perché comunque la gara la stavi tenendo in piedi, l'1-0 arriva con un'ottima giocata della Juve di prima, con Ken che trova Di Bala, Nuitink viene bruciato, non so dirvi francamente se sia più un problema della situazione che sta vivendo, perché non dimentichiamocelo, per larghi tratti Nuitink era uno dei sani, ma si è allenato a casa da solo, quello incide, però non so dire se incida più quello, o magari il fatto che Di Bala comunque è Di Bala, cioè è comunque un giocatore che ha un certo tipo di estro, ha un certo tipo di rapidità e velocità di esecuzione, e magari Nuitink non è più veloce come una volta, cioè vogliamo tutti bene ad Abramo Brambo, lo adoriamo tutti, ma non sarà a lungo come dire al top, anche per lui l'età avanza, e non ha mai fatto della velocità il suo cavallo di battaglia, la mette più che altro sull'anticipo, sulle letture, e quando ti ritrovi gente come Di Bala davanti diventa complicato, devo dire molto bene il centrocampo, molto bene Arslan, Walsh e Mack'n'Go al netto delle difficoltà, Arslan soprattutto ha fatto entrambe le fasi egregiamente, bisogna continuare un processo di svecchiamento, barra continuo lancio dei giovani, perché comunque la squadra l'hai già abbastanza svecchiata, rispetto a un ciclo dove avevi preferito magari rilanciare degli elementi, un po' caduti in disgrazia tra virgolette delle big, però Arslan credo che sia uno di quegli elementi che anche rifacendo una squadra molto giovane, debba rimanere al suo posto, perché veramente è un ottimo connubio, e l'ho dimostrato anche oggi, dove la situazione era molto complicata, bene anche appunto Walsh, che continua a dimostrare, di poter dire la sua in Serie A, anche a buoni livelli, e se evita certi errori diventa un elemento importante, ma Ken Goh è anche appunto, lui è il più giovane dei tre, è in crescita, io resto fiducioso appunto per il girone di ritorno, metto queste due partite tra virgolette come incidente di percorso, nel senso che ci è capitata questa sfortuna, e pace, ce la dobbiamo mettere alle spalle a questo punto, vediamo i vari ricorsi come andranno, non credo che per Udinese e Atalanta succederanno cose, e vediamo più che altro se al venetano Udinese cosa verrà fuori, perché comunque lì è una questione un po' più complessa e delicata. Dal mercato arriverà quasi sicuramente un centrocampista in più, senza dimenticare che a febbraio tornerà finalmente per Eira, dopo il problema alla clavicola, e mi rendo conto anche che per dire Deulofeu deve dare di più, ecco, se c'è un elemento dell'undici che deve trovare più costanza e riuscire a incidere maggiormente per quelle che sono in suoi mezzi, è appunto lo spagnolo che cerca sempre il dribbini di troppo, e così è un problema. Mi ricorda il primissimo De Paul, che insomma si specchiava un po' nella sua bravura, però alla fine poi quagliava poco, per dire col Cagliari, con due colpi ti ha fatto fare una goleada. Deve essere quello il Deulofeu solito, non quello che vediamo appunto oggi o come con l'Atalanta, però appunto sono tutte critiche che rientrano in una situazione molto complicata e difficile, quindi spero dovrebbe almeno essere finito il momento della, tra virgolette, crisi, e dalla prossima si potrà iniziare effettivamente concretamente a fare punti, per quanto anche oggi probabilmente giocandosela un po' meglio, con magari un po' più di fortuna in alcuni episodi, perché per dire la trattenuta di Bernardeschi su Soppicera, nulla di scandaloso, clamoroso ci sta, che non abbia fischiato, ma ti è girata anche un po' male la ruota probabilmente in questa gara. Per le prossime nutro abbastanza fiducia, è una squadra che dovrebbe, mi tocco tutto, dovrebbe riuscire a salvarsi senza troppissime remore, è chiaro che dispiace un po' perché con alcuni elementi un po' più pronti, con una squadra fin da subito più pimpante alla Cioffi, come come sotto la guida di Cioffi, ma con magari i progressi tattici che stava pensando Gotti, è che questa squadra può ambire a qualcosina di più della semplice salvezza, a questo punto dobbiamo mettere anche questa stagione tra virgolette con mannate di transizione, ma con maggiori spunti positivi per la prossima, sperando che in estate non parta nessun big, ma non dovrebbe attualmente, non è nei piani, però insomma sul mercato non vi è certezza, ma se l'Udinese riuscirà a mantenere questo gruppo puntellando la dovere tra gennaio e l'estate, secondo me l'anno prossimo. Possiamo divertirci al netto del fatto che magari anche Cioffi potrebbe magari crescere, visto che sembra sarà lui la guida tecnica, non lo sappiamo per l'anno prossimo, per i prossimi sei mesi sì, ma se anche Cioffi dovesse crescere, attenzione, perché magari è un po' meno in british rispetto a Gotti, ma secondo me ha quel mix tra sagaccia tattica e carattere, che può essere interessante, dobbiamo valutarlo bene in questi sei mesi sotto l'aspetto tecnico e tattico, ecco, secondo me però dal punto di vista della carica si prospetta un profilo interessante. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e ci rivediamo al prossimo video sull'Udinese, che sarà probabilmente appunto la monografia su Benkovic, il nuovo acquisto per la difesa. Ciao!